Buon pomeriggio, sono molto felice di dire qualche parola a tutti voi, giovani cittadini europei, che vi riunite nel quadro del programma delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo. La crisi di Covid-19 ha reso gli ultimi mesi molto difficili per tutti, ha cambiato le nostre abitudini e immagino che questo valga anche per voi. Probabilmente non potevate uscire di casa per incontrare i vostri amici, avrete dovuto adattarvi a un nuovo tipo di realtà scolastica, forse la vostra famiglia ha vissuto qualche difficoltà economica. Nonostante questo avete continuato i vostri strudi sull'Unione europea. Come avete visto stiamo facendo tutto il possibile per aiutare l'economia europea e i nostri stati nazionali a riprendersi dopo questo drammatico shock, esattamente perché vogliamo che ciascuno di voi possa trovare buone opportunità quando lascerà la scuola e comincerà a costruire la propria vita. Non a caso il piano di ricostruzione europeo si chiama Next Generation, cioè voi, la generazione del futuro. Per riuscirci abbiamo bisogno che l'Unione europea resti unita. Nessun Paese può farcela da solo, siamo più forti quando uniamo le forze. E questo l'abbiamo visto in questi mesi di pandemia. E questo è anche il principio fondamentale su cui si fonda la nostra Unione ed è per questo che il vostro lavoro è così importante. Vi incoraggio a continuare a studiare, a parlare dell'Unione europea, a conoscerla, a fare tutto ciò con i vostri amici, con i vostri genitori, nelle vostre famiglie. Vi prego di condividere ciò che sapete, di sfidare alcune delle credenze comuni sull'Unione europea, di sfidare quella reticenza che spesso parte della politica trasmette su una presunta lontananza dell'Europa. Dobbiamo costruire il futuro insieme. Il nostro futuro si chiama Unione europea. Grazie per essere i nostri ambasciatori. Continuate a prendervi cura della Casa Comune. Continuate il vostro impegno per costruire l'Europa del futuro.